Ciao, siamo con Paolo Privitera, in Italia sono le nove e mezza, credo, grosso modo, di sera, ovviamente lui è nella Silicon Valley, mi ha appena fatto vedere il Bay Bridge che si vede dall'ufficio dove è in questo momento e Paolo Privitera è il fondatore di una start-up che si chiama Ducu, che fa un prodotto che si chiama Pick One, che ci racconterà sta andando molto bene, però io prima di arrivare a quello che tu stai facendo nella Silicon Valley vorrei un attimo tornare indietro e capire chi è Paolo Privitera, da dove parte per essere arrivato diciamo poi a San Francisco. Perfetto, allora, facciamo un recap velocissimo dagli ultimi anni, vabbè, parto da una laurea in informatica fatta a Venezia, a Ca' Foscari, la laurea l'ho trasformata in un master sempre di informatica con una fortissima componente di marketing e ottimizzazione dati e gestione delle aziende, quindi una specie di business intelligence. Negli ultimi tre anni prima della laurea avevo già iniziato a lavorare in Italia, ho aperto la mia prima azienda web Digitix, si chiama, nel 1999, tra Venezia e Vicenza, io sono di Venezia, di mestre d'origine, e in quegli anni ho anche lavorato come CTO per una grosso gruppo di industriali a Vicenza, ho fatto entrambe le esperienze, sia da employee, chiamiamolo, e sia da freelance, da imprenditore. Quanti ne hai? Adesso ne ho 34, e quando ho aperto l'azienda ne avevo 21, 20-21. Precoce. Come? Precoce. Precoce, sì. Anzi, quella non era neanche la prima, ho aperto una precedentemente, tre anni prima, una SRL con cui gestivo un sito, io ho comprato il dominio mestre.it, che è il dominio della mia città, io sono l'unico cittadino italiano che possiede un dominio di una città.it, e questo è permesso dal fatto che la città di Mestre non è una città, non è una frazione, non è un comune, è soltanto un agglomerato urbano, e quindi questo mi permette di avere un dominio .it di questo tipo. Ok. E quindi sì, ho sempre lottato contro la noia, io impazzisco, prima ancora che mi annoio io impazzisco, quindi mi metto sempre, sono sempre iperattivo praticamente, sempre col livello attivo. Poi, praticamente gli ultimi tre anni prima della laurea, già avevo capito che determinate cose non mi piacevano, praticamente io ho già appena aperta l'azienda, cercavo la qualsiasi sorpasso, che non ho trovato in Italia, anzi, pur essendo stato, avendo già avuto molte soddisfazioni, perché comunque a 21 anni avere una piccola azienda con tre, quattro persone con clienti anche di un certo tipo non era assolutamente male, quindi ho avuto un'esperienza ottima in Italia a quel tempo. avuto, però ugualmente sono rimasto molto rallentato dalle stesse entità con cui lavoravo, fatture pagate quando volevano, ovviamente ero troppo giovane, il problema è che non mi davano così tanto responsabilità, pur dimostrandola in concretezza non avevo l'età per farlo, volevano una persona con più anni. Quindi nel aprile del 2002, 12 giorni dopo la laurea, io sono fuggito, mi sono licenziato dall'azienda italiana, quella in cui lavoravo, ho mantenuto aperto la mia azienda, ho fatto un'esperienza di tre mesi a New York con l'idea di fare una specie di vacanza post laurea, dopo tre mesi l'idea era tornare in Italia, non avevo l'idea di stare in America, sono rimasto folgorato dalla città che già comunque mi aveva colpito per vacanza e ho deciso di rimanere un anno, estendendo continuamente la mia permanenza, soltanto che a New York nel 2002 non era semplice, era dopo 9-11, quindi la città non si era ancora ripresa del tutto, lavori non c'erano neanche per gli americani, quindi è successo che ho trovato un internship, una specie di lavoro di prova presso un'azienda italiana a Los Angeles, io non volevo andare a Los Angeles ma ho accettato poi di mettere qualcosa a curriculum e quindi a quel tempo avrei fatto di tutto per rimanere negli Stati Uniti e quindi mi sono trasferito a Los Angeles con l'idea di mettere questa cosa a curriculum e stare lì 3-6 mesi e dopo lì che Los Angeles mi ha trattato così bene che sono rimasto senza rendermene conto 4 anni. Nel 2004 ho comprato una casa, il primo mutuo, avevo 24 anni e ovviamente chiedere mutuo negli Stati Uniti è ovvero il più semplice che fa in Italia, però al tempo stesso mi sono costruito un certo profilo di credito per poter accedere a questa possibilità, pur non avendo enough cash per fare l'operazione. Niente, sono rimasto 5 anni a Los Angeles durante i quali ho creato la Digitix Corp, la corporation americana, abbiamo costruito più di un centinaio di siti alla fine, facciamo web development e negli anni mi sono specializzato anche dal punto di vista della business, proprio strategie per i clienti in cui lavoravamo. Nel 2005 ho deciso di continuare a studiare, ho preso, ho fatto un master in marketing a UCLA alla Università di Los Angeles e nel 2007 mi sono trasferito a San Francisco, pur avendo avuto già un paio di richieste da aziende come Google nel 2003 e nel 2005 che io intelligentemente ho rifiutato. Vabbè, sono errori che si fanno ma non ho regret di nessun tipo. In quei 4 anni a Los Angeles ci teniamo a sottolineare un paio di cosine, ho lanciato un social network che si chiamava Keypole, K-E-Y-P-L-E che sta per Key People, persone chiave, praticamente avevo dei clienti che chiedevano dei social network privati, quindi anziché costruirne ad hoc per ognuno ho pensato di costruire un framework e di customizzarli per ognuno e così ho fatto. Solo che nel durante ho pensato che se questo framework l'avessi automatizzato così tanto da avere utenti che potessero crearsi con un click il proprio social network, con un dominio di terzo livello, un dominio proprietario, con il loro logo e montando un template semplicissimo io potevo praticamente costruire quello che poi è diventato Ning poco dopo. Solo che l'idea era portata ancora più là. Volevo che tutti gli utenti registrati a questi siti, seppur registrati a siti privati, avessero un unico ID tale per il quale potessero loggarsi anche nei social network degli altri creatori di questi siti come se fossero siti della grossa piattaforma, quindi alla fine era una specie di aggregatore cross login di social network. L'ho presentata come idea a UCLA e ho vinto il primo premio come idea più innovativa dell'anno. Tenendo anche presente che a Los Angeles non ci sono molte start up di tecnologia rispetto a San Francisco, diciamo che ho avuto la strada forse un attimo più semplice, comunque è stata una soddisfazione incredibile. Professori interessatissimi al progetto, l'ho lanciato, abbiamo avuto un migliaio di utenti che si sono iscritti subito direttamente nel campus. In quei giorni, mentre ero in ufficio, vedo una marea di giornalisti di tv che girano per questo co-working space che affittavo a Los Angeles e chiedo cosa succede e mi dicono, eh sì, MySpace è stato acquisito. Faccio ok, ma perché la gente è qui? Mi fa perché MySpace, Tom di MySpace è il tuo vicino. Praticamente il mio vicino next door d'ufficio era MySpace che si chiamava Intermix Inc. E in quel giorno è stato comprato per 523 milioni di dollari dalla Fox. Questa cosa mi ha assegnato, nel senso che mi ha anche spaventato, ho detto praticamente hanno sbagliato porta, dovevano venire da me a prendere questi soldi. E questa cosa a quel tempo io non ragionavo ancora da, come si chiama, da imprenditore da Silicon Valley in cui vedeva il mercato in una certa maniera. Quindi ho pensato, se MySpace sta comprato io non avrò mai spazio. Quindi ho pseudo abbandonato il progetto, stupidamente. Ho venduto altre licenze per la piattaforma, ma alla fine non ho avuto poi risorse e tempo di portarlo avanti. La cosa che mi ricordo ancora è che quel tempo quando l'avevo lanciato il sito aveva le stesse funzioni di Facebook. Avevo Add to Friends, avevo i post wall, avevo foto, avevo eventi e nulla. Poi nel 2007 mi sono trasferito in Silicon Valley, ho aperto il secondo ufficio, ho deciso di mantenere l'ufficio di Los Angeles. Ho aperto il secondo ufficio, tutto ciò, il pretesto di trasferimento è nato da un cliente che mi ha chiesto in ginocchio di prendermi a cura della sua azienda dal punto di vista del web marketing, dal punto di vista della strategia che ci sta dietro. Un anno dopo, un anno e mezzo dopo, e dopo 54 voli in alto ritorno a San Francisco a Los Angeles, decido di chiudere l'ufficio di Los Angeles. Tra l'altro molte persone avevano cambiato location, alcune sono andate a San Diego, altre sono trasferite da altre parti, quindi non aveva più senso pagare una struttura di quel tipo. Ho trasformato un po' il tipo di servizi che offrivo come azienda. Sono passato da offrire servizi ad aziende, non di tecnologia, a offrire servizi di tecnologia, cioè start up. Quindi ho puntato più sulla qualità del prodotto che sulla quantità. Tutti i lavori custom, i clienti erano start up. Ho iniziato a lavorare con circa 5 o 6 start up, alcune di queste mi hanno anche offerto, oltre che cash, sweat equity, quindi praticamente un pezzettino dell'azienda. E ho imparato tantissimo, praticamente in tre anni ho fatto un crash course su how to Silicon Valley, networking events ogni giorno. In Silicon Valley ci sono attualmente più di 120 a settimana di tecnologia, ovviamente specializzati in vari topic e in varie location della zona. E nel 2010, durante tutto questo trambusto e nuova vita in Nord della California, in parallelo con Armando, che è l'altro mio socio, co-founder di Duccio, ci siamo ritrovati in maniera totalmente disgiunta con questa idea di piattaforma delle opinioni. Io dal punto di vista tecnologico, era da mesi che stavo studiando la piattaforma di Freebase come database multidimensionale per le opinioni e lui, più dal punto di vista proprio di, chiamiamolo, concetto e di utilizzo nel mercato. Una persona nel 2009, che combinazione è lo stesso Max Ventimiglia di HRT, che conoscevo già da anni, ci ha messo in contatto, avendo sentito entrame le campane e nel 2010, dopo 6 mesi di pseudo di utilizzo stramare Armando sul da farsi, abbiamo aperto la Duccio Inc. qui a San Francisco e da lì è iniziata la storia dell'azienda. Attualmente io tra 3 mesi farò tra l'altro 10 anni negli Stati Uniti, questa cosa mi spaventa perché per me sembra di essere arrivato ieri. Senti, dagli una curiosità, visto che c'è questa cosa, oddio, il visto negli Stati Uniti. Il visto? Come si fa a stare 10 anni negli Stati Uniti senza essere cacciati? Esatto. Allora, il visto, questo sconosciuto, il visto spaventa. Questo lo vedo, ha spaventato anche io a me più volte. Però devo dire una cosa, se uno vuole stare negli Stati Uniti, il visto si trova. Usarlo come deterrente, usarlo come pretesto, come scusa per non provarci veramente, non funziona. Quindi se uno ha deciso di lavorare qui, se uno ha deciso di lavorare qui, di fare l'esperienza qui, il visto si trova, ci sono tanti visti possibili, c'è il B1 per piccole consulenze, piccoli periodi, il J1, l'Intership, che poi può convertire quasi istantaneamente a un visto lavorativo di quelli stabili, quelli fissili. Il C1B visto da employee, il 2 visto da investitore, il 1 visto da colui che sposta bene tra i due Stati fisici, ci sono visti come L1, se tu lavori per una ditta italiana vieni trasferito di qua, ci sono decine di visti, ognuno con vantaggi e svantaggi, ognuno… ci sono due tipologie grandi di visti, ci sono i visti da immigrant e i visti non immigrant. I visti immigrant sono quelli in cui tu ufficialmente diventi un employee di un'azienda americana e che significa che in quel momento tu diventi un immigrante o immigrante, dipende da dove lo vedi a tutti gli effetti. Gli altri visti, io per esempio ho questo E2 visa da ormai 10 anni, lo puoi rinnovare illimitatamente fin tanto che hai un'azienda negli Stati Uniti che sta crescendo. Tra l'altro i visti non immigrant, i vantaggi sono abbastanza semplici da ottenere perché la decisione finale la prende esclusivamente il console dello stato di cui tu sei cittadino. Quindi ci puoi parlare, non hai le forche caudine dell'immigrazione americana che sono abbastanza ostiche. Lo svantaggio è che i visti non immigrant, cioè quelli che ti rilasciano i consolati italiani in questo caso, non ti permettono di arrivare naturalmente alla green card. ed è il motivo per cui dopo 10 anni non ce l'ho ancora, ovviamente mi ero preso, sapevo di questo. Quindi è il console italiano? Non è il console americano in Italia? No, scusami, io intendevo il console americano in Italia. Io quest'anno sto applicando per la green card tramite un altro processo, ci sono vari procedimenti per arrivare alla green card e ci sono procedimenti immigrativi che io appunto non posso utilizzare perché non ho visto immigrativo, visto che ho fondato la mia stessa azienda. E ci sono procedimenti, vabbè, se ti sposi un'americana, ovviamente, that's easy. Ci sono altre strade che sono quelle definite special skills o per merito. Significa che nel mio caso sto applicando, mostrando tutta la lista di accomplishments che io ho avuto durante questi 10 anni, con casi concreti, con presse, con articoli. Tra l'altro giocherò molto sul fatto che ho costruito un software insieme ad un altro socio anni fa, si chiama City Permit ed è un software per gestire i permessi costruttivi delle città californiane con meno di 25 mila abitanti. Quindi, oltre ai miei clienti, la Digitix ha spedito fattura alla California. Quindi io mi giocherò questa piccola cosa come un ho fatto qualcosa per la California. quindi sto, come si chiama, gathering, sto raccogliendo carte, praticamente, per dimostrare questo. E se sono fortunato riesco ad avere la fast length per questo e quindi, in teoria, entro 3-6 mesi potrei addirittura avere la green card. Bocca al lugo. Eh, crepi. Crepi, crepi. Senti, allora, adesso arriviamo a Duciu. Quindi tu fondi Duciu insieme con? Armando Biondi. Con Armando Biondi e con supporti economici esterni? Allora, inizialmente abbiamo messo Sweat Equity entrambi, giusto per la prima parte di Due Diligence. Appena aperto la Inc, abbiamo fatto tutti e quattro un investimento, quattro chi? Io, Armando, più altri due soci. Non faccio adesso un discorso di nomi pubblici perché, per vari motivi, ad ogni modo, per chi fosse interessato possiamo spedire la presentazione per gli investitori, c'è dentro tutto. Abbiamo versato in totale, come first shot, 150 mila dollari versati, qui nella Inc americana, tutti e quattro i soci. E un anno dopo, quindi nel 2011, abbiamo fatto fundraising complessivo, e abbiamo raccolto circa altri 175 mila dollari. Ok. Quindi più altri piccoli micro round, il primo shot era in equity, il secondo shot, i terzi altre versate, erano state fatte in convertible note, quindi per un totale abbiamo raccolto più o meno 400 mila dollari oggi. Hai tu domande o vado avanti io? E come sta andando? Cioè adesso, ok, va bene, quindi avete le risorse sostanzialmente per lavorare, ok, quindi per costruire un minimo di team, eccetera, e per cominciare a vendere, no? Che poi è la cosa fondamentale che uno deve, no? Cioè, l'attraction, no? In questo caso tu fai un servizio B2B, quindi l'attraction è c'ho il cliente. Esattamente. Allora, sì, non è proprio stato così. Allora, è successo così, noi abbiamo l'idea di costruire una Wikipedia delle opinioni, che poi Wikipedia è per spiegarle in maniera semplice, in maniera un pochino più sofisticata, l'idea era costruire un freebase delle opinioni. Il freebase non è altro che questo database multidimensionale ad accesso pubblico, leggibile anche tramite API e tramite query, con cui tu puoi interagire con la base di dati, che però ha anche un frontend molto semplice con cui interagire. Su freebase si trovano oggi tutte le informazioni che trovate su Wikipedia, con la differenza che le informazioni le puoi cercare tramite query e ottenere risultati strutturati che tu puoi inserire nei tuoi database, nelle tue applicazioni e nei tuoi siti. Questa era la base di partenza. Però questa base di partenza, in gergo tecnico, un database simile, una piattaforma simile si chiama Enabling Technology, non è un prodotto. Quindi, seppur abbiamo avuto una buona traction iniziale ai primi pitch, i primi eventi fatti, noi questa roba non potevamo venderla, seppur fosse figa. Quindi, l'idea era di costruire un layer di API su cui costruire dei prodotti i cui prodotti potevano essere venduti e utilizzati e fare revenue. Per stimolare i developer, l'idea era costruire noi un paio di prodotti, mostrare come funzionava e poi sperare di disrupt. Abbiamo costruito il primo prodotto a quel tempo, si chiamava Couchin, Couchin.com, c'è ancora il sito tra l'altro landing page, non è altro che una Foursquare per i film. Mentre la stavamo costruendo, l'abbiamo lanciata, l'abbiamo costruita, abbiamo avuto un po' di utenti e nel mercato sono arrivate aziende come GetGlue e come Miso, i quali signori di Miso hanno avuto per esempio 8 milioni di dollari di financing. Noi eravamo a bootstrappare, scudatemi l'italianismo, con molti meno soldi di loro. Con la differenza che loro non volevano soltanto fare il check-in dai film. Noi volevamo usare il pretesto del check-in dai film per chiedere a chi guardava il film le opinioni sul film stesso. Tristemente dopo circa 6 mesi abbiamo ucciso il prodotto perché non avevamo abbastanza risorse per poter sostenere la chiamiamola competizione frontale. Quindi siamo tornati, abbiamo fatto un secondo pivot, quindi abbiamo cambiato direzione all'azienda, siamo tornati alla piattaforma generalista, chiamiamola, e abbiamo provato a capire come a trasformare un prodotto. L'illuminazione è arrivata a cavallo tra il 2010 e 2011, mentre tra l'altro io ero a Las Vegas, al CES, dove vado ogni anno da 20 anni ormai, dove ho avuto modo di assistere al pitch di Sir Martin Sorrell, fondatore di WPP, il quale signore combinazione si era comprato qualche anno prima i chart, azienda per la quale combinazione avevo iniziato a lavorare nel 2011 in Italia. Tutto ciò, giusto per ricordare, nel 2011 tra il team italiano di Duccio, che era in Italia, e tra questa idea di riscoprire l'Italia dopo 8 anni all'estero, ho accettato questa splendida offerta fatta da Max e appunto alla fine ho passato più di metà anno in Italia facendo commute ogni mese tra Italia e Stati Uniti. Quindi il pitch del signor Sorrell era un pitch al pubblico fatto su come si fa oggi marketing digitale e il suo pitch non era altro che il pitch di Duccio. Questa cosa ovviamente mi ha emozionato. Praticamente lui ha spiegato quello che volevamo fare noi con parole di una semplicità incredibile e sicuramente molto molto commerciali. Noi fino a quel momento facevamo pitch e ragionavamo da geek, da nerd, da developers, da technology. Non ragionavamo da mercato o da cliente o da gente. Quindi noi abbiamo utilizzato il modo in cui lui ha proposto l'idea, ha proposto il concetto, cioè lui aveva detto il market research in primis tradizionale si faceva chiedendo alla gente cosa pensava, studiando i comportamenti della gente, prelevando queste informazioni, portandole in house nelle aziende e le aziende con market research potevano costruire un migliore prodotto e fare marketing del prodotto. Solo che questi cicli pre internet o pre real time erano cicli lunghi, tre, sei mesi, un anno, e spesso, siccome il mondo cambia molto velocemente, il messaggio che arrivava era un myshift atto di molti mesi. Grazie alla tecnologia di oggi tu puoi chiedere alle persone in tempo reale domande, opinioni, avere un feedback in tempo reale e il pretesto stesso di chiedere alle persone cosa pensano di un certo brand, di un certo prodotto diventa strumento di marketing se stesso. Quello che è definito oggi user engagement, quindi fai coinvolgimento degli utenti. Quindi il nostro prodotto, PQAN, che poi abbiamo appunto l'idea era questo di più prodotti e alla fine abbiamo scelto di fare il prodotto al terzo pivot che si chiama PQAN, prodotto da Ducciu ovviamente, che assolve a queste due funzioni. Market research, quindi survey, poll che puoi chiedere agli utenti e la parte di user engagement, quindi digital marketing, quindi fare traffico, generare traffico e quindi arrivare al sales e poi al retargeting. Ovviamente, detta raccontata così, le prime risposte erano ci sono tanti altri prodotti che fanno marketing, che fanno cose simili a noi. È corretto, infatti noi ci siamo specializzati in due componenti. Una è la componente del dato, cioè noi abbiamo costruito il framework con questo, in caso specifico, con MongoDB, quindi con una database multidimensionale, molto veloce, che permette di salvare dati con dei data set, quindi delle strutture dati elastiche e coerabili tramite API, quindi una specie di famoso freebase o Wikipedia delle opinioni. dal punto di vista invece di usabilità frontend, abbiamo anche un patent pending su questo, riusciamo ad estrarre dall'utente che vota qualcosa che oggi è banale, ma a cui nessuno o pochi avevano pensato, cioè nel momento in cui tu voti, se tu voti facendo un social login con un Facebook Connect, un Google Connect, un LinkedIn Connect, io riesco a sapere istantaneamente chi sei. Sembra banale, solo che applicato al mondo del market research evidentemente siamo stati molti a averlo pensato. Noi attualmente, quindi abbiamo questo, nel mentre, quindi dopo il pivot che stava accadendo dal gennaio del 2011 in poi, abbiamo pensato, facciamo un focus su un tool da inserire nei social media, quindi arrivare dove sta veramente la gente, dove vive la gente, quindi arriviamo quasi al behavioral, perché si arriva quasi al behavioral, arriviamo dove sta la gente. Mentre facevamo questo e mentre avevamo iniziato a fare nuovi pitch pubblici, blog, test, abbiamo iniziato ad avere una grossa presenza nella pressa e alcuni brand ci hanno contattato. Tra questi brand abbiamo avuto questo contatto, tra l'altro tramite i chat con Ikea che aveva bisogno di esattamente quello che offriamo noi, aveva bisogno di uno strumento per fare sondaggi dentro ai loro social properties, quindi dentro alla loro fan page e dentro alla loro social network privato che si chiama Emma Ikea. Quindi Ikea è diventato il nostro primo cliente, che però era un cliente anomalo, perché noi non volevamo vendere big brand, volevamo vendere, avere un tool auto installante che potesse essere utilizzato sia dall'utente che dalla small and medium business, piccola azienda o dal grosso brand. Il fatto di essere andati da Ikea e poi successivamente da altri brand come Toyota, oppure come prima ancora abbiamo avuto Amnesty International, ci ha rotto il nostro business model, perché noi volevamo fare praticamente B2C o meglio B2B2C o meglio ancora B2C auto installante, ci siamo trovati un B2B che ci ha chiesto un servizio. Non avevamo neanche la struttura per andare da questi clienti, eravamo un gruppo di developer con un po' di manager che gestivano i processi di sviluppo ma non gestivamo i processi di vendita. Quindi ci hanno chiesto un servizio e non volevamo vendere un prodotto. Ovviamente abbiamo pensato di dire di sì, non puoi dire di no a questi brand mentre sei in bootstrap. E questi brand ci hanno validato, quindi alla fine è stato tutto un successo enorme perché adesso questi brand ci hanno validato e ci hanno dato una mano ad affinare il prodotto. e a distanza di circa cinque mesi dalla prima richiesta, adesso ci troviamo con abbiamo ripreso a costruire il prodotto auto installante di qui sul sito pqam.com dove abbiamo per ora ancora una landing page molto molto semplice perché non abbiamo tempo di ancora fare comunicazione appropriata. abbiamo un alfa dello strumento che Ikea sta utilizzando come private label e questo strumento sarà affinato nelle prossime settimane dove abbiamo avuto già migliaia di richieste da small a medium business e da utenti. Abbiamo una sign up page, abbiamo una come si chiama, un better request form dove gli utenti possono diventare beta user, abbiamo quasi un migliaio di richieste più sporadiche, siti americani, italiani, francesi, brasiliani e abbiamo una lista di oltre 250 grosse aziende in Italia, in UK, in Brasile, negli Stati Uniti e in Cina che ci hanno chiesto di comprare la nostra piattaforma. In parallelo il prodotto così presentato è diventato così trendy e così caldo che due aziende di market research ci hanno proposto di non solo diventare partner, in cui non lo siamo diventati, ma addirittura un'acquisizione. Si parla di un'azienda del gruppo di WPP, si chiama TNS che è la più grande market research company del mondo. Praticamente appena hanno capito, hanno saputo che i dati dei dati che loro avrebbero prelevato tramite noi dai loro clienti, per esempio stiamo lavorando con Heineken, stiamo lavorando con Transport for London, la metropolitana di Londra, con Pepsi, appena hanno capito che i dati sono anche nostri, hanno detto vi compriamo, non esiste che i dati siano vostri. Quindi adesso stiamo ragionando con loro, abbiamo fatto molti meeting, la situazione è exciting, insomma sta succedendo un po' di tutto diciamo. Beh non male, senti, in questo pivotare diciamo, in questo cambiare rotta, che è una roba un po' ansiogena, nel senso che parti da con un'idea e poi mano a mano ti sposti, ti sposti, ti sposti finché non arrivi. Quindi in realtà la capacità di uno start-upper sembra quasi più, come dire, la capacità di aggiustare la rotta più che tenere una rotta dritta, insomma, no? Sì. Beh, ovviamente tu conoscerai tutto il mondo della Lean Startup, Customer Development e compagnia bella, perché anche che oggi come oggi vanno alla grande. Ma voi, tu le usi, diciamo, questi passaggi li avete fatti, come dire, consapevolmente utilizzando anche, non so, tecniche da minimum viable product, quindi nel fare un passaggio avete strutturato il prodotto minimo, cominciate a fare i test e via di seguito, o avete fatto una cosa un pochettino più ruspante? Abbiamo fatto una via di mezzo tra le due, che a me piace anche chiamare un approccio Serendipity, che ha funzionato molto molto bene. Anzi, tra l'altro è una parola usata, Serendipity Innovation, che sta nel mio tag ovunque. È stata utilizzata da un grossissimo VC di cui adesso non mi ricordo un nome, mi pare che sia Shervin di Mello Venture, alle web, infatti io l'ho subito tweetato, lui mi ha retweetato in diretta mentre ero sullo stage, fantastico, che lui ha definito Serendipity Innovation. Chi era quello che parlava insieme con Sean Parker? Con Sean Parker, esattamente. Che ha detto, the world is a startup. Esattamente. Esattamente, fantastico. Praticamente, noi siamo sicuramente compliant con la lean startup process, quindi ci definiamo sicuramente una lean startup. Dall'altra parte, a livello di prodotto, abbiamo sempre avuto, perlomeno sulla nostra bocca, MVP, sin dal primo giorno. Anche perché l'idea e i tipi di fondi che avevamo e le necessità a cui dovevamo andare incontro e le validazioni di cui avevamo bisogno portavano in maniera naturale all'MVP, cioè l'idea di costruire un prodotto demo che fosse il minimo, che avesse le minime caratteristiche tali da poter essere utilizzato e venduto. Poi quando vai avanti che cosa fate? Nel processo, diciamo, con cui costruite il software, che cosa utilizzate? utilizzate tecniche di agile development tipo Scrum, uffate molti test sulle interfacce, quelle robe che predicano appunto AB testing e compagnia bella. Ti chiedo questa cosa, perché sostanzialmente il meccanismo di fondo qual è? Il meccanismo di fondo è che c'è un movimento, chiamiamolo così, che è quello appunto del scientific entrepreneurship, cioè dell'imprenditorialità scientifica, che sostanzialmente cerca di eliminare la parte più artigianale, più casuale dell'essere imprenditore e dice no, l'imprenditore si può fare e le start up si possono fare soprattutto utilizzando di fatto dei metodi quantitativi, quindi test, dati, 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 dati a morire, molti test e poi si decide, si impara e si decide. Quanto a questa cosa assomiglia a quello che fate voi? 50%. Noi abbiamo sempre avuto dei binari su cui volevamo accorarci, anche per dare concretezza e struttura al nostro percorso e sono stati definiti in maniera naturale, diciamo dalla mia esperienza, lavorare con le altre start up in Silicon Valley, quindi ho imparato tantissimo. e quindi si parla di MVP, si parla di ogni start up, si parla di avere un minimo di business plan strutturato che poi sono executive summary, una specie di excel file dove è sempre chiaro le variabili a cui tu vuoi arrivare, quindi sempre numeri. purtroppo, diciamo, per arrivare ai fatti è differente, nel senso che un conto è avere in mente esattamente lo strumento e metterli in atto, quindi anche per rispondere. abbiamo usato le tecniche di scrum all'inizio, quindi già il development, ad ogni modo siamo stati così tumultuosi tra i pivot fatti, tra i cambi di team che abbiamo avuto, abbiamo avuto un cambio di team di development, abbiamo avuto un cambio nell'arco di due anni, tra l'approccio differente del prodotto e del mercato, alla fine ogni tanto perdevamo di vista questi strumenti e ci siamo ritrovati con approcci meno scientifici, che però hanno dato dei risultati incredibili. Quindi, secondo me, la via di mezzo e, come si dice, in media stat virtus, ci siamo trovati molto molto bene e siamo stati fortunati, ce lo siamo meritati, insomma, io quando parlo di serendipity non è mai fortuna, è un misto di essere al posto giusto, al momento giusto e di essere, soprattutto come mi hanno definito, come si è definito, avere un open mind, quindi accettare gli input che ti vengono fatti dall'esterno, i suggerimenti, i consigli, questo ti mette in un piano in cui sei molto aperto a ricevere input, a percepirli, a digerirli e più fai questo e più le cose succedono, è quasi un ricorre positivo. Chi sono i tuoi mentor? Ho avuto vari mentor negli anni, ho avuto i mentor primi a Los Angeles, un imprenditore, anzi due imprenditori italiani, che hanno di successo, hanno fatto tutt'altro nella vita, hanno fatto tecnologia, hanno fatto vendita di prodotti italiani all'estero, e sono anche abbastanza famosi, sono entrambi specializzati nel mondo del design, che tra l'altro mi hanno dato una visione molto imprenditoriale, generalista e etica di approccio al lavoro. Invece in Silicon Valley, come mentor ho avuto uno dei più cari amici che sono due amici, David Wickley, fondatore di PB Works, nostro advisor in, come si chiama, in Tucho, dalla Since Day One, poi praticamente il mio migliore amico, uno dei miei migliori amici, si chiama Juan Pablo Puerta, che ha studiato con me a Venezia all'Erasmus mentre faceva informatica, lui è spagnolo, ed è l'attuale CTO di Craigslist, e lui è specializzato tra l'altro in database, infrastruttura di framework, e tutte le persone che ha contratto in Silicon Valley sono state i miei mentor, ho un network di una decina di amici più stretti, da qui imparo moltissimo. E quando c'è il momento di panico con chi parli? Con loro, con loro e con i miei soci, cioè con i miei soci in primis, e poi con loro sicuramente. Ok, senti, i prossimi step di Tucho di fatto già me li hai detti, perché insomma adesso ci sono tutte queste serie di opportunità che si aprono, quindi un grandissimo bocca al lupo, tra cinque anni dove sei? Fra cinque anni, cinque anni è distante. Vabbè, tre dai. Beh, fra cinque anni o fra tre anni io mi vedo che, allora, beh, Tucho o l'ho venduta o è diventata un colosso, ed entrambe le loro situazioni mi porterebbero ad avere molto più tempo libero, e questo tempo libero l'ho converto in creazione di altre startup. Ho una lista di almeno 20 idee che vorrei sviluppare, quindi mi vedo in mano con qualche altra startup, mi vedo sicuramente con famiglia, figli e cane. Non so ancora se in Napa Valley o in Brasile o in qualche parte d'Europa, forse non ancora in Italia tra cinque anni, non penso in Italia. Va bene, senti, allora, un bocca al lupo, ci aggiorniamo tra un anno così vediamo che cosa hai fatto. Fantastico. Va bene? Grazie. Grazie mille, Nicola. Ciao Paolo. A prestissimo, un abbraccio, ciao, un abbraccio, ciao, ciao.